Allora sarete d'accordo con me, converrete con me sul fatto che la politica nazionale ha dato la chiara, evidente dimostrazione di non riuscire a risolvere i problemi per cui era chiamata dai suoi elettori. I grandi problemi della società sono stati affidati ad un governo tecnico perché i politici non sono in grado di affrontarli. Io vorrei davvero che noi tutti credessimo di non essere dei politici, noi non siamo politici di professione, nessuno di noi qua è un politico di professione, noi siamo dei cittadini che hanno deciso di impegnarsi, impegnarsi per cercare di risollevare la nostra città da una situazione in cui noi veramente non avremmo mai voluto che finisse. Quindi se questi sono i grandi temi che dobbiamo affrontare ovviamente abbiamo bisogno di un grande impegno da parte di tutti ed è per questo che ovviamente la nostra coalizione civica è formata da tante liste civiche, tante liste civiche che sono tutte animate da uno scopo comune, quello di amministrare finalmente con serietà e competenza la nostra città e che ovviamente non sono delle liste civetta, non sono delle liste fantasma. Ogni lista è animata da persone che davvero vogliono impegnarsi per la propria città. Primo punto, crisi economica. Che cosa fa il comune? Risposta nostra. Noi faremo due cose. Uno, innanzitutto, un fondo sociale d'aiuto a chi subisce più duramente gli effetti di questa crisi. La seconda cosa che faremo invece, non è mai stata fatta in questo territorio, un piano integrato per lo sviluppo, perché la crisi si affronta seriamente e la si affronta con un piano integrato, non con delle iniziative, una tantum disorganizzate. La seconda questione, il secondo problema grande, una città abbandonata a se stessa da troppo tempo, senza più cura e allora dobbiamo riprenderci cura di questa città, ma non con le grandi opere, con le mega opere che cominciano e non finiscono mai, con le piccole cose. Questa città, oltre che ad essere stata abbandonata in questi anni all'incuria, è anche una città che si sta spegnendo. Lo vediamo tutti. Lo vedono soprattutto quelli che vivono di centro storico, i commercianti. Le saracinesche si abbassano e non si alzano più. Questa città non deve morire, bisogna rivitalizzarla, partendo dal centro storico, dai centri delle frazioni, dai luoghi simboli della nostra città. E sono tanti. Da lì dobbiamo ricominciare a dar vita alla nostra città. La sicurezza. Anche qui la sicurezza non è fatta di carri armati per le strade. La sicurezza deve consistere in questo. Se io subisco un furto, se mi entra qualcuno in casa, io mi spavento. Però io devo sapere che tempo dieci minuti arriva qualcuno. Riorganizzazione della polizia locale, più vigili sulle strade e meno negli uffici. Punto primo. Secondo, sinergia con le forze dell'ordine. quinto punto, l'ultimo. Inquinamento e degrado del territorio. Abbiamo una lista tematica su questo. Quello è un tema guida. Io ho dei bambini piccoli che respirano l'aria di questa città, non voglio che continuino a respirare un'aria piena di polveri sottili che fanno male. Punto. Non c'è altro da dire. Bisogna lavorarci sopra. Allora, io sarò molto breve perché sulla partecipazione è un problema che noi vogliamo tirarci addosso, noi di lavoro in corso. Si può amministrare anche benissimo senza pretendere che gli elettori cittadini partecipino. Gli elettori vanno a votare e la giunta come come suo dovere amministra. Noi però siamo convinti che questo non sia giusto, che sia importante che i cittadini partecipino continuamente alla vita della città. Crediamo che ogni persona, ciascuna persona, possa portare nel dibattito pubblico un'aggiunta. Ciascuno di noi ha qualcosa da dire e se gli altri lo sanno ascoltare, alla fine si arriva ad avere un risultato che contiene che contiene un po' delle idee di tutti. Se noi sapremo ascoltarci, sapremo amministrare bene anche Cantù. Chiedere al cittadino quali sono le esigenze, quali sono le opere che servono al cittadino, proprio perché la città deve riportare al centro non l'opera ma il cittadino stesso. E quindi questo è il primo punto secondo noi fondamentale che ci deve essere per governare il nostro territorio, che non è stato assolutissimamente fatto, tant'è che questo PGT, che è costato tantissimo, non ha nulla di innovativo rispetto a quanto c'era prima. E poi un'altra cosa per noi dolente, tanti di noi hanno studiato queste cose, è vedere che all'interno di un piano di governo del territorio nel 2012 non c'era niente riferito alle nuove tecnologie per risparmio energetico, che è vero che hanno un costo ma è anche vero che ci sono tanti modi per non gravare sulle tasche del comune, ad esempio utilizzando le ESCO, che sono delle società che investono, migliorano la qualità degli edifici e il beneficio economico in parte lo tengono loro, in parte ce l'avrà il comune senza dover spendere troppi soldi, visto che non ne abbiamo. in questa situazione cosa può fare il comune? Può agire come già anticipava Claudio prima in due direzioni, da una parte con sostegno alle famiglie più bisognose, con un fondo di solidarietà che poi sarà meglio esplicitato credo da Francesco e dall'altra parte con il sostegno alle imprese. Infatti è evidente che non c'è reddito se non c'è lavoro e non c'è lavoro se non ci sono le imprese. Per quello che riguarda l'artigianato e le attività produttive è evidente quello che è mancato in questi ultimi vent'anni ed è la vicinanza dell'amministrazione comunale alle imprese. Per quanto riguarda il commercio il problema più evidente e noto è la presenza ormai invadente delle grandi catene di distribuzione, dei grandi centri commerciali, fino a qualche anno fa erano i centri commerciali e oggi stanno diventando i discount. Questo cosa comporta? la sofferenza dei piccoli esercizi di vicinato, dei negozi, dei centri storici, non solo quello di Piazza Garibaldi ma di tutti i centri storici che soffrono evidentemente di questa concorrenza spietata dei grandi centri. Cosa fare? Il primo passo è rendere i centri storici degli ambienti vivibili, degli ambienti vivibili mediante iniziative studiate ad hoc. In ultimo l'agricoltura, l'agricoltura, il primo passo per la tutela dell'agricoltura delle aziende agricole operanti sul territorio è evidentemente quella della salvaguarda del territorio. Quelle aree che oggi sono agricole devono rimanere agricole, venendo meno quelle vengono meno. Le attività evidentemente agricole e quindi anche il sostegno economico delle aziende che lì operano. Allora in questo senso un'idea era quella che appunto Claudio chiamava un fondo, un fondo di solidarietà che possa vedere la partecipazione eventualmente del privato quando questo potesse un po' sulla falsariga di esperienze che nel nostro territorio altre realtà e altri enti hanno promosso con una chiarezza dell'offerta, una trasparenza dell'offerta e una trasparenza dell'aiuto che poi viene dato, documentato in maniera chiara. E poi la partecipazione del fondi pubblici che come sapete in questo momento diventa particolarmente gravoso ma che noi abbiamo pensato di ottenere attraverso un lavoro di riduzione di quelle spese che pensiamo siano inutili. Ecco allora un impegno sarà quello di creare una lista di priorità di eliminazione delle barriere architettoniche avendo questo come una delle priorità. La nostra idea confrontandoci anche con le associazioni è che ci siano degli spazi ancora nel reperimento di fondi esterni attraverso bandi, bandi regionali, europei come già si diceva per altri settori. Finora questa è stata un'esperienza tentata dalle singole associazioni ma mai dal comune come capofila di questo e questa dimensione propositiva del comune è un territorio da affrontare, creare una rete, progettare insieme, coinvolgere associazioni diverse come ente pubblico farsi capofila e cercare all'esterno dei fondi che possano permettere in alcuni ambiti di respirare. Una parola sulla questione cultura ed educazione. Bisogna lavorare con una visione ad ampio raggio, cioè da qui a tre anni, quattro anni all'interno della Villa Calvi decido questo programma culturale. Faccio una proposta, con quella proposta ecco allora che posso andare anche dal privato o dall'ente pubblico a raccogliere finanziamento che renda sostenibile. Sono qui per parlare della tematica della legalità. Il fenomeno delle infiltrazioni criminali nel nostro tessuto economico è ormai chiaro e trasparente ed evidente a tutti quanti. Le recenti indagini della magistratura hanno portato alla luce questo fenomeno. Quindi quello che noi intendiamo fare è essenzialmente intervenire per far sì che l'amministrazione comunale possa farsi portavoce e possa bloccare o perlomeno tentare di farlo insieme a tutte le altre istituzioni la criminalità organizzata che erode ed intacca il cuore della nostra economia. Per far ciò interveniamo dal punto di vista delle gare d'appalto. Per noi, come diceva già Mimmo, è fondamentale la trasparenza e la partecipazione. Come si può concretamente realizzarla? Attraverso la pubblicazione dei bandi, dei contratti che verranno conclusi e stipulati dalle amministrazioni che dovranno per forza di cose essere resi pubblici. La pubblicità è fondamentale perché così tutti i cittadini potranno partecipare, potranno vigilare in modo tale che tutti rispettino le leggi. queste sono le cose che noi proveremo a fare. Non sappiamo, noi non possiamo promettere che le faremo o che le faremo tutti. Noi proveremo, come ha detto Claudio, a prenderci cura delle piccole cose e cominceremo dalle piccole cose anche con la partecipazione perché noi per primi dobbiamo imparare a partecipare e anzitutto ad ascoltare. Il bizzotero mi sta sulle scatole e allora voto per gli altri. Ma va bene, fai pure, però sappi per quale progetto non voti e per quale progetto voti.